Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Questa volta siamo qui per raccontare ciò che ha detto il sedicente amante di Liliana Resinovic, Claudio Sterpina. La 63enne scomparve il 14 dicembre 2021 dalla sua abitazione di Via Verrocchio a Trieste, ma il cui corpo senza vita fu ritrovato il 5 gennaio 2022, vicino a casa sua. Nel parco di San Giovanni con due grandi sacchi dell'immondizia infilati uno dal basso e l'altro dall'alto e con due sacchetti di plastica che le chiudevano la testa. L'amico speciale o sedicente amante che dir si voglia di Liliana Resinovic, Claudio Sterpina, è stato intervistato nella trasmissione Mattino 5 in onda su Canale 5 stamane 23 gennaio. Le parole dell'uomo rappresentano un attacco a Sebastiano Vicentin, e precisa. L'alibi perfetto di Sebastiano non è vero. Lui dice di essere andato alla 9 di mattina a portare i coltelli nell'ultima pescheria, ma non è così. La mattina dopo, quando è scomparsa Lilli, l'ha saltata. Probabilmente perché alle 9 di quella mattina aveva altro da fare, ma questo deve dirlo lui. Inoltre, Sterpina detto Il mio ultimo pensiero è che stata tramortita, tenuta da qualche parte al freddo ed essere morta per ipotermia, ha spiegato Sicuro si tratti di simulazione di suicidio.